La lettura ha decisamente una buona compagna per restare in casa. Il coronavirus fa scoprire agli italiani le biblioteche online che registrano un vero e proprio boom di iscrizioni e prestiti. La versione online del sistema bibliotecario di Milano ha avuto un aumento del 641% delle iscrizioni e il download di libri e audiolibri ha superato i 57 mila nel solo mese di marzo.